La depressione potete vedere il mar morto. Le colline che vedete lì illuminate sono già in Giordania, l'altro lato del mar morto. E questo è il Monte degli Olivi, no? Sto sbagliando. Il Monte degli Olivi è lì. Ok, là. Ok. Quindi questo è il deserto di? Giudea. Giudea. All the way back there, we have Jordan and the Dead Sea. And right here we have Uri. Egei. E se già vedete attraverso il parabrezza, allora c'è questa serie di pietre posate. E subito lo vedrete alla sinistra, questo era quella torre di sorveglio. Ecco, la vedete che qui aveva anche il muolo, mentre dalla destra arriva il letto del fiume del Cedruolo. Il muolo quindi c'erano traffici sul bar morto? Sì, sì. Anche oggi ci sono di tanto in tanto, c'è del traffico sul bar morto. Ricordatemi che prima di lasciarvi devo lasciarvi i dati per domani, compreso il numero telefonico del servizio che verrà a rilevarvi. Comunque l'orario di partenza è alle 10.50. Pick up time. 10.50. Sì, signor. Sì, signor. Sì, signor. Mario, ciao a tutti we're on what is it called in English this machine it's a cable car it's a what? a cable car, there we go that's the dead sea over there Non ha importanza in quella mia presenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mario, girate. Saluta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.